Mi chiamo Samia e ho 10 anni. Sono afghana ma vivo a Karachi in Pakistan. Amo la scuola e voglio studiare per sempre. Mia sorella maggiore si è dovuta sposare molto presto e non è potuta andare a scuola. Ora le sto insegnando a leggere e a scrivere. Ho tanti sogni e il cuore pieno di speranza. Voglio diventare un dottore e offrire alla mia famiglia una vita migliore. Samia è una bambina rifugiata che è stata costretta a fuggire dalle violenze in Afghanistan. Solo grazie a un' istruzione può realizzare il suo sogno e diventare un medico. Gli operatori UNHCR lavorano per garantire ai bambini rifugiati un'istruzione e un futuro. Costruiscono scuole dove non ci sono, formano insegnanti, forniscono ai bambini libri e materiali didattici. Aiuta anche tu i bambini rifugiati a tornare a scuola. Dona questo numero inviando un sms o chiamando da rete fissa. Bastano due euro per mandare a scuola per un mese tanti bambini come Samia. Mettiamocelo in testa. Solo con l'istruzione un bambino rifugiato ricomincia a scrivere la sua vita.